Si comincia, è iniziata, cara 1 di finale scudetto della Serie 1 femminile Non sbaglia poi la Freco Camerunense, intanto Babbo qui si prende la girella Gol stratosferico di Giamma Babbo Possibilità di lanciare per Manuelovic, Gorbaciova, buono il timing del lancio E poi Gorbaciova che ha la caratteristica Babbo attacca nello spazio, lascia sul posto Giulia Losio, gol strepitoso E Manuelovic, palla sul palo, Eco vede spazio per andare La girella di Karishma Eco C'è il attaglio di Bernabéi, ne approfitta Karishma Eco che conclude Asciana la finta, qui grandissima giocata Gol splendido di Saldes Asciana E Gorbaciova, hanno sicuramente fatto qualcosina in meno Ecco, Ramona Malovic deve avermi sentito Il tiro e il pallone che si infila sul secondo palo L'attacco sul secondo di difesa Poi si crea la superiorità sul primo palo Non sbaglia Giulia Losio Si rimane fermi sul 29-28 4 minuti alla fine La palla per Coppola, dai 6 metri Non sbaglia mai Antonella Coppola Rete spiazzata Massonna Per il più uno, il nuovo più uno di Brixen C'è la palla persa La possibilità per Negri Arrua Di chiuderla a questo punto dai 6 metri Non sbaglia Bevele Negri Arrua Esterna la Tunisina Che poi si prende anche un ultimo tiro Attenzione perché c'è un secondo a disposizione Più nulla Vince la Brixen Schuttiroll 32-31 sulla Hacilaj Stadelice In gara 1 di finale scudetto Al Palazzo dello Sport di Bressanone Al Palazzo dello Sport di Brixen Schuttiroll